Mr. Aida, quanto è stata voluta questa vittoria? Tanto, perché avevamo voglia di chiuderlo questo campionato, ci ha visto protagonista fin dall'inizio, oggi era importante perché sapevamo che anche un punto ci avrebbe consentito eventualmente di poter alla fine vincerlo questo campionato, però siamo stati talmente bravi da riuscire a vincere in casa della diretta concorrente, per cui questo ci ha permesso oggi di vincere questo campionato e penso che con questa vittoria abbiamo dimostrato che forse effettivamente la squadra che meritava di vincere ha vinto.